Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale. Dopo l'annuncia sorpresa di Control su Switch ho potuto provare in modo più approfondito la demo del gioco. Vorrei parlare nel dettaglio con voi di questo primo esperimento in cloud su Switch per noi occidentali, chiarendo molti dei dubbi che ci sono a riguardo. Ho visto che c'è molta confusione su come funzioni questo tipo di distribuzione digitale, quali siano i costi e quali vantaggi rispetto alle altre versioni. Vi dico da subito che dopo la prima prova di ieri e appena finito il direct mi sono dovuto ricredere pesantemente e l'esperienza complessiva mi ha lasciato più che soddisfatto. Quindi prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Premetto che ho adorato Control e lo ritengo forse il goti dello scorso anno e la mia reazione isterica in live non può che confermare l'amore incondizionato che provo verso questo gioco, un titolo ingiustamente sottovalutato dal grande pubblico. Grazie al cloud possiamo giocare a una conversione altrimenti impensabile perché con Control i ragazzi di Remedy hanno tirato fuori dal cilindro un motore grafico tanto impressionante quanto esoso in termini di requisiti hardware. Il gioco è stato uno tra i primi a integrare a 360 gradi tecnologie avanzate come il ray tracing, feature disponibile fino a qualche tempo fa solo su schede video di fascia medio alta. Ora con la riproduzione in streaming è possibile godere di un tale spettacolo anche in portabilità e con i minimi compromessi, ma andiamo con ordine. Il gioco non è in affitto ma ha un costo ben preciso che ne garantisce l'uso illimitato. Dopo la demo di prova, che consiste in due AV da 10 minuti l'uno, all'utente offerta la possibilità di acquistare la versione completa al prezzo di 40€. Ovviamente, oltre al leggerissimo client necessario per avviare l'applicazione, non ci sarà bisogno di effettuare alcun download, fattore da non sottovalutare. Infatti uno dei vantaggi collaterali del cloud è proprio quello di non dover occupare la propria memoria interna, un aspetto fondamentale per tutti quei giocatori che acquistano prevalentemente in digitale e spesso si ritrovano a fare conti con le limitate capacità di archiviazione di Nintendo Switch. Per quanto riguarda le prestazioni del titolo, dipende tutto ovviamente dalla connessione a vostra disposizione e in questo la demo arriva in aiuto per avere un'idea se sarete in grado di far girare il gioco nel migliore dei modi. Dal mio canto, con una modesta 100Mb e senza la fibra, ho avuto un'esperienza decisamente positiva, sempre tenendo conto degli ovvi compromessi. Il gioco dispone di due modalità di avvio principali, una pensata per dare priorità alle prestazioni, con retracing disattivato e 60fps, e l'altra incentrata sulla qualità grafica, con retracing attivo ma framerate bloccato a 30fps. Entrambe le modalità hanno i loro pro e contro e la fluidità della prima, per molti sarà da preferire allo spettacolo visivo della seconda, perché chiariamoci, vedere il retracing attivo sullo schermo di Switch è qualcosa di fenomenale. I compromessi ovviamente ci sono, ma non influiscono più di tanto sull'esperienza complessiva di gioco. In entrambi i casi ho trovato l'input lag ridotto allo zero, quasi impercettibile, e a parte qualche microfreeze, ritardo nell'audio nella modalità performance e la compressione del segnale video, difficile da notare in portabilità, l'esperienza complessiva raggiunge ottimi livelli, una fluidità di azione davvero inaspettata. Qui entra in gioco la propria capacità di saper scendere a compromessi con la qualità generale in funzione della possibilità di avere un titolo del genere. Insomma, che siate puristi della fedeltà grafica o meno è innegabile che quella di Control su Switch sia una versione di tutto rispetto, che non ha nulla da invidiare alle altre console. Le immagini che state vedendo ora risalgono a un anno fa, mentre giocavo a Control su PS4 base e la situazione post lancio era anni luce distante, da quanto oggi possiamo godere incomodità su Switch. Ma lascio giudicare a voi. Senza aggiungere poi la rapidità dei caricamenti, gestiti dall'hardware nel remoto, l'offerta di tutto il pacchetto completo di Control, proposto in versione Ultimate e la possibilità di usufruire dei salvataggi in Cloud senza il bisogno di essere abbonati a Nintendo Switch Online. Come ho già detto nel precedente video, quella del Cloud è una tecnologia ancora acerba e che fa affidamento sulle disponibilità di rete dell'utente, ma Control su Switch è un passo in avanti fondamentale che dimostra un potenziale senza eguali. Immaginate tutti quei titoli storicamente assenti dalle piattaforme Nintendo. Con una soluzione del genere si potrebbe auspicare uno scenario dove anche produzioni del calibro di GTA, Red Dead Redemption, FIFA, Cyberpunk e chi più ne ha ne metta arrivino su Switch in contemporanea con le altre console next-gen. Un futuro rosio che credo non andrà mai a sostituire definitivamente il supporto fisico, ma si affiancherà alle grandi produzioni targate Nintendo, per espandere a dismisura la libreria di Nintendo Switch e dei suoi successori. E voi poracci, che ne pensate? Avete provato Control? Siete rimasti affascinati? Come al solito vi aspetto nei commenti. Prima di salutarci vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Control, Michele Cloud, ciao!